Per noi non è mai facile, è sempre difficile, è sempre con difficoltà. Per i ragazzi sono straordinari. Sono due anni insieme, dove ovviamente esce qualcuno, gli arriva un altro, però quello che esce ci manca. Sono sicuro, sicurissimo, chi arriva al Pumani, c'è Sergio Oliveira qua, sicuro. La gente che arriva, arriva e beve di questo spirito, di questa mentalità. I ragazzi sono un gruppo veramente straordinario. Dopo anche io ho un gruppo straordinario di assistenti, di analisti, di preparatori che lavorano tantissimo. E dopo andiamo ai dettagli, perché un mese fa, quando si infortuna Paolo Gini, Smalling, Ricky, Prima, io penso che solo noi, solo noi lì dentro, abbiamo pensato che sia ancora possibile. Io penso che anche il romanista più romanista ha pensato che la storia è finita. Non è finita, i ragazzi trovano sempre forza nella loro organizzazione tattica, nella loro mentalità, nella loro empatia. Ovviamente la partita di oggi è una partita, io direi quasi epica, nel senso di un grande avversario, un grande stadio, un grande arbitro. Perché questa partita senza un grande arbitro sarebbe una partita un po' caottica, perché c'era una pressione incredibile, che si sentiva questa pressione incredibile.